Contrario il Comune di Petriano, contrario il Consiglio Comunale di Urbino, contrario il Consiglio regionale, contrario a Vallefoglia e ora contrario pure il Sindaco di Pesaro Matteo Ricci. Eppure, senza un valido piano B, Marche Multiservizi e la SRL Aurora andranno avanti col progetto della discarica da realizzare a Riceci. L'ho ribadito l'amministratore delegato Mauro Tiviroli di fronte all'impellente necessità di realizzare un impianto di smaltimento di rifiuti speciali. Dunque si andrà avanti con l'iter verso la sempre più vicina conferenza dei servizi, a patto di non trovare un'alternativa valida in tempi brevi. Un'ipotesi accolta dal presidente di ERA presente ieri a Pesaro e ribadita da Ricci anche durante la serata nove anni da sindaco. Io però ritengo che la strada che è stata presa sulla discarica di Riceci sia una strada oggettivamente impraticabile, gestita male. Io, che sono il comune principale, non sono mai stato coinvolto. Gestita fuori dall'ambito dei rifiuti perché è un tema che va in qualche modo per iniziativa privata, quindi non sta dentro il piano dei rifiuti. Ma è evidente che lì quella cosa non si farà perché il comune di Petriano oggi è contrario, perché credo che anche il consiglio comunale di Urbino che confina alla fine si esprimerà contrariamente, perché è politicamente diventata una questione ingestibile per quel territorio e perché credo non ci siano neanche le condizioni tecniche affinché questo progetto passi in conferenza dei servizi. Perché non ci sono le distanze rispetto ai primi centri abitati. Quindi ho invitato la società a ipotizzare un piano B perché quell'impostazione secondo me porta la società a sbattere contro un muro e noi non ce lo possiamo permettere. Il dibattito su Riceci ha arroventato anche il consiglio regionale di ieri dove sono passate tre mozioni contrarie alla discarica di Lega, Movimento 5 Stelle e PD. Su quest'ultima Michele Avitri ha ribadito i ritardi dell'assessore Aguzzi nel nuovo piano gestione rifiuti mantenendo quello attuale che lascerebbe, secondo Avitri, campo libero a privati e alludendo anche ad una maggioranza contraria ad ampliare le distanze dalle discariche ai centri abitati. Uno scaricabarile, secondo Aguzzi, non accettabile. Se c'è un peccato originale, se c'è qualcuno che ha fatto nascere una società appositamente per poi presentare un progetto di nuova discarica e quel CDA è targato Partito Democratico al 90%, poi non si può venire a dire in consiglio regionale che è causa della regione o è causa di qualcuno di centrodestra. Qui c'è una chiara volontà politica di chi ha la maggioranza dei consensi nella provincia di Peso Urbino in quella scelta. A questo punto, chiarito questo, c'è stato un forte dibattito su questo, io sono contento che siano passate tutte e tre le emozioni contrarie da parte di tutti i gruppi a questa realizzazione e spero che ci siano le condizioni per evitare che possa venire avanti quello che sarebbe un vero e proprio scempio nelle zone più belle della nostra provincia, le zone vicino a Urbino, vicino a Petriano, le zone delle nostre meravigliose colline dove ci sono aree protette, dove ci sono delle DOP, dove si produce in gran parte le materie prime, il latte in questo caso per la famosa casciotta d'Urbino, ecco io spero proprio che si riesca ad evitare questo scempio e la regione farà di tutto in questo senso.